Edder. Mech. Pallister. In particolare, l'attenzione si è concentrata su una Fiat. Sospettata di essere coinvolta nel trasporto del corpo, il veicolo è stato fermato presso i traghetti a Villa San Giovanni, sia la polizia che i carabinieri sono attivamente impegnati nelle operazioni investigative per fare luce su questo tragico evento e assicurare i colpevoli alla giustizia. Ehi, non dimenticare di iscriverti a questo canale.